Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo arrivati quasi alla fine di questa full immersion sugli esercizi relativi all'equazione di una parabola. Oggi continuiamo con il punto 6. Andiamo a vedere come determinare l'equazione di una parabola quando conosco tre punti passanti per essa. Non perdiamo tempo, andiamo subito a svolgere un esercizio. Mi vengono dati tre punti A, B, C. Devo trovare l'equazione della parabola. Ormai sono sicura che avete capito qual è la logica, dobbiamo sempre andare a impostare un sistema di tre equazioni in tre incognite. Questa volta ho tre punti che passano per la parabola. Passano è una parola magica, sapete bene che in matematica vuol dire che devo andare a sostituire le coordinate di x e y al posto di questa formula qua. Quindi la prima equazione si ottiene impostando il passaggio per il punto A. Al posto di y metto 6. Al posto di ax alla seconda verrà A per 1 alla seconda. Al posto di bx avrò b per 1 e c lo ricopio. Ora facciamo la stessa cosa con il passaggio per il punto B. Al posto di y metto la y del punto B. Al posto di x alla seconda viene meno 2 alla seconda che fa 4 più 4A. B per x viene b per meno 2. Prodotto dei segni più per meno meno 2B. E più C lo ricopio sempre. Ultimo punto. Facciamo il passaggio per il punto C. Al posto di y metto la y del punto C. Al posto di x alla seconda metto meno 1 alla seconda che fa più 1. Moltiplicato per A fa A. B per x fa b per meno 1. Meno B. E abbiamo ottenuto così il nostro bellissimo sistema di tre equazioni in tre incognite. Per risolvere questo sistema io vi consiglio due metodi. Ho il metodo di Kramer che ho pubblicato qualche settimana fa sul mio canale YouTube che è un metodo molto carino che permette di trovare le soluzioni attraverso l'uso delle matrici. Se non lo avete visto vi consiglio di guardarlo perché secondo me è il metodo più divertente e più veloce per risolvere i sistemi lineari. Metodo numero 2 attraverso due semplici passaggi. Il primo passaggio consiste nell'applicare il metodo di sostituzione e il secondo passaggio consiste nell'applicare il metodo di riduzione. Oggi vediamo questa seconda opzione proprio perché la prima l'abbiamo vista di recente e quindi avete la possibilità di andarla a recuperare e rivedere con calma. Allora cosa faccio? Abbiamo detto che il primo step consiste nell'applicare il metodo di sostituzione e per fare questo devo prima andare a esplicitare un'incognita. Per esempio io voglio esplicitare la A. Questo vuol dire che A rimane da sola e porto B e C tutto di qua cambiando di segno. Ottengo così A uguale a 6 che l'ho ricopiato e più B portato di qua diventa meno B e C portato di qua diventa meno C. Se vi state chiedendo come mai ho scritto A uguale 6 meno B meno C e non 6 meno B meno C uguale A è perché quando esplicito io voglio sempre avere l'incognita al primo membro e anche se io ho portato B e C al primo membro cambiando di segno posso comunque scriverli al secondo membro. Ora che ho esplicitato A cosa faccio? Vado a sostituirla nelle successive due equazioni. Quindi ho ricopiato la seconda equazione e al posto di A ho messo questa quantità. Stessa cosa nella terza equazione ho ricopiato tutto e al posto di A ho messo questa quantità. A questo punto la prima la barro perché non voglio perdere tempo a ricopiarla, il tempo è prezioso nel compito e vado a fare i calcoli, i prodotti negli altri due. 4 per 6 24 meno 4B meno 4C e il resto lo ricopio. Poi qui andiamo direttamente a sommare perché non devo fare i prodotti. Meno C più C sono opposti vanno via. 8 e 6 li posso sommare, 6 lo porto al primo membro diventa meno 6. 8 meno 6 2. Meno B meno B fa meno 2B. Quindi ho trovato B perché divido a destra e a sinistra per 2. In questo modo 2 2 si semplifica. Voglio che B abbia sempre segno positivo, quindi cambio di segno qui, chiaramente cambio di segno anche di qua. Ottengo che B è uguale a meno 1. Vado a sostituire al posto di B meno 1 ovunque appare nella seconda e nella prima equazione. Nella prima ho 6 meno B. Meno B per meno 1, meno per meno più, viene 7 meno C. Nella seconda abbiamo diversi monomi simili, quindi andiamo a sommarli. 24 portato di qua fa meno 24. Sommato a 15 fa meno 9. Meno 4C più C fa meno 3C. Meno 4 meno 2 fa meno 6B. Ma B vale meno 1, quindi meno per meno fa più 6. Nella seconda equazione ho un'unica incognita. Quindi vado a trovare C. Portandola al primo membro viene 3C. Meno 9 portandola al secondo fa più 9. 9 più 6 fa 15. Dividiamo tutto a destra e sinistra per 3. Così facendo 3, 3 se ne va. 15 diviso 3, 5. Ora che ho trovato C cosa faccio? Vado a risostituirlo qua. In modo da trovare A. Andiamo a scrivere in bella copia la soluzione finale. 7 meno C, ovvero 7 meno 5, 2. B e C le ricopio. Io le ricopio sempre in ordine alfabetico. A, B, C. A prescindere dall'ordine in cui erano nelle singole equazioni. In sintesi abbiamo risolto questo sistema soltanto con il metodo di sostituzione. Perché sono stata fortunata nei calcoli qua, C si semplificava e quindi mi ha permesso di trovare subito il valore di B. Molto spesso nei sistemi di 3 equazioni in 3 incognite, dopo aver fatto il metodo di sostituzione, qua non sparisce l'incognita e quindi si va a fare il metodo di riduzione tra queste due equazioni. Noi questa volta siamo stati fortunati. Comunque se avete bisogno di un ripasso sui sistemi lineari 3x3, andate a vedere la mia playlist Sistemi Lineari. In particolare il video dove vi spiego come risolvere i sistemi di 3 equazioni in 3 incognite. Torniamo a noi, abbiamo trovato la soluzione, la parabola quindi è questa. E abbiamo visto così anche come si trova l'equazione di una parabola dati 3 punti. Ormai conoscete il mio modus operandi? Sapete bene che alla fine di ogni video lezione vi propongo sempre un po' di esercizi per allenarmi. Per cui dopo aver visto me, dopo aver capito tutti i passaggi, ora tocca a voi allenarvi e fare pratica. Fate più esercizi possibili, vedrete che prenderete confidenza sempre di più con la parabola. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Io spero che siate riusciti a capire tutti i passaggi, ma soprattutto che siate riusciti a fare più esercizi possibili. Ricordatevi di attivare la campanella in modo tale che nei prossimi giorni vi arriverà una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video sulla parabola. Argomento che questa volta avete scelto voi nel sondaggio che abbiamo aperto nella nostra community. Mettete un like e passate parola se conoscete qualcuno a cui pensate possa essere utile questo video. Seguitemi anche negli altri social. Mi trovate su Instagram, Facebook e TikTok. Io vi saluto e vi lascio con il mio motto. Se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato.